Dal mezzogiorno d'Italia a Bruxelles, grazie al premio Campania Europa, consueto concorso promosso dall'AREC Campania, l'associazione che riunisce gli ex consiglieri regionali agli studenti degli istituti scolastici del nostro territorio, un'opportunità di ricerca e di conoscenza dell'universo comunitario, per sentirsi sempre più partecipi dell'Unione Europea. Ad aggiudicarsi il viaggio in Belgio, studenti delle quattro province campane e della città metropolitana di Napoli. Ascoltiamo Vincenzo Cappello, presidente AREC Campania. L'impegno dell'AREC ormai è giunto alla tredicesima edizione di questa manifestazione. In effetti noi facciamo un concorso che mandiamo in tutte le scuole per le ultime classi della scuola delle scuole superiori, con cui alla fine di questo concorso tutti gli studenti parteciperanno con un tema che ogni anno cambia, impostato quasi sempre sull'Europa e alla fine di questo concorso noi premiamo i partecipanti, i vincitori di questo concorso con un viaggio a Bruxelles per tre giorni. In effetti abbiamo voluto con questa edizione, che è la tredicesima come dicevo, testimoniare l'impegno dell'associazione ex consigliere regionale nei confronti dei giovani. A presenziare alla cerimonia di premiazione il vicepresidente del consiglio regionale, Tommaso Casillo. Devo dire che l'opportunità forse è per noi, istituzione, perché abbiamo davvero un bisogno di recuperare e ricostruire un rapporto con la società, con l'opinione pubblica e lo facciamo partendo dai giovani, dagli studenti e quindi per loro è un'opportunità anche per loro perché avranno modo di poter visitare una città importante che è il luogo del Parlamento europeo, potranno approfondire e capire quali sono le opportunità che l'Unione europea attraverso i fondi vengono indirizzati verso i paesi membri, in modo particolare per l'Italia e quindi in modo ancora più particolare e specifico per le regioni del Mezzogiorno e quindi credo che questa sinergia tra istituzioni e ragazzi non può che far bene complessivamente anche alla politica.